Buongiorno cari amici di Compagnia di Urco, questa mattina sono in compagnia della signora Michela Signora Michela, ti figli ha? Due Quanti anni hanno? Cinque e due E come si trovano? Scuola? Lei già le ha accompagnati? Questo novo anno scolastico diciamo è appena iniziato Lei cosa pensa al riguardo? Si trovano bene? Sì, fortunatamente per il momento sì E i libri di testo sono stati tutti stati? No, lei va ancora all'asilo, non ancora abbiamo preso niente Ho capito, e riguardo invece la manifestazione di lega ambiente che si è tenuta stamattina qui in città per la pulizia delle strade, lei cosa pensa? Come si è svolta? Spero che in futuro avremo un po' di più di pulizia delle strade di Solofra Quindi si sarebbe aspettata un miglioramento? Spero di sì Ho capito, va bene, io la ringrazio, le auguro una buona domenica, un saluto agli amici di Campania Tube